Guarda in mezzo, marcatura uomo per la difesa del Novara, Silvestri in mezzo, attenzione che ha da terra un giocatore del Novara, c'è il gol di Gomez. Gomez di testa porta in vantaggio il Ligorna, minuto 17 che scocca in questo momento, Ligorna in vantaggio a Novara con il gol del numero 9, Gomez da Pina Alberto. Un presidente, c'è solo un presidente, un presidente, c'è solo un presidente.